E' scattata con nuove iniziative la terza edizione di Scuole Viaggianti, il progetto di Estra, che negli anni è coinvolto più di 1600 scuole e 65.000 alunne e alunni del centro Italia. Rinnovata l'intesa tra Confindustria Toscana Nord ed Estra, l'accordo prevede prezzi concorrenziali per le aziende di Confindustria Toscana Nord con consumi annui fino a 200.000 m3. La fibra, portata in 18.675 aziende e in 56 aree produttive toscane, tanto vale l'alleanza di Estracom, la società di telecomunicazioni di Estra, con Fiber Connect. 6 milioni di euro, a tanto ammonta l'investimento di centri alla società di distribuzione di Estra per estendere la rete gas nel comune aretino di Cortona, nelle frazioni di Centoia, Fratticciola, Pergo e Pietraia. Grazie. Grazie a tutti.